Ci troviamo sui Lungarni, da poco pedonalizzati, l'inaugurazione è venuta sabato, una novità che si aggiunge al panorama della pedonalizzazione della città che raggiunge 420.000 m2 di aree pedonali nel centro storico. Una rivoluzione per la mobilità cittadina portata avanti dall'amministrazione. Siamo andati a chiedere a turisti, commercianti e cittadinanza cosa ne pensano. La trovo una cosa fantastica, solo tardiva. Firenze è un gioiello che va a curato, specialmente nei punti storici, strategici. Dovremmo abituarci a usufruirne con mezzi naturali, senza automobili. Siete favorevoli come commercianti a questa rivoluzione nella mobilità cittadina. Come commercianti devo dire che la pedonalizzazione potrebbe essere una scelta vincente perché potrebbe far venire più turismo, più passaggio. È un fatto molto positivo perché qui c'era un traffico anche molto veloce e a tratti piuttosto pericoloso e si spera che questo non avvenga più, con biciclette e altre cose, ma era pericoloso anche per le automobili. E quindi noi siamo tendenzialmente favorevoli per il nostro tipo di commercio. Perché è molto bello, senza i nostri cari, solo per la città, abbiamo ascoltato alcune cose buone su Firenze. Cercare di spingere verso una mobilità che non sia necessariamente basata su combustibili fossili, eccetera, sia comunque una cosa positiva. L'unico problema che ho è con il motivo per cui si fa questa pedonalizzazione, che comunque è una, secondo me almeno, è una spinta verso un turismo un po' troppo elitario e che comunque allontana poi il cittadino, insomma il fiorentino, il cittadino di Firenze o anche lo sente fuori sede dal centro. Tu ti sposi sempre in bici, no? Quasi sempre in bici, sì. E poi penso anche oggettivamente senza un trasporto pubblico abbastanza efficiente non siano misure che si prendono così alla leggera, ecco.